e quindi 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 e quindi e quanti 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 mamma ancora non l'ha imparata ora vamo a aver io a chi sta con il rodillo questa chica ora è sempre ma spedicosa è unico di che ha imparato a crescere o dietro dietro a guida da tale tale tranquila io alla passa male a per loro lo contavamo si si è Gabri un personaggio che conosciamo è il nostro Gabri Eva eh no oh its un peccato che nell'altra equipporna è successa forza bruta forza assassina intende? ahhahah�� ti adoro ah si si se non poteva essere nada è nada che poteva serlo agobiene eccola vai pare se è un tiburon come si muove si muove io e sperando la persona che quando la veste va, claro e tiene la malasferta però che hai sempre un compagnolo del suo prezzo quindi ora si può essere no no sta sendo il tiburon esatto oh oh guarda oh e come è ciò a passare al medio e come ve come hai visto il tia io non l'ho visto Caleb io non l'ho visto Caleb spera che io non ho entendito la stena vale io credo che stanno non voglia dormire hai visto un Caleb Caleb o scopio oh no 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 la malasferta di questo partito è fatale pobrecita Anna però passa nada perché noi sappiamo il potere di questa giocatoria sì chiaramente oh e credo che oggi che anche hai un piccolo problemito di lag in sua linea ah però mira perché sì sì eh no me lo creo il partito ma incredibile no por